Si chiamava Megan Evans, purtroppo non c'è più, infatti è morta, pensate nel bagno di casa, nel 2017 in Galles, nel Regno Unito. Era una docce studentessa, è stata trovata prima di vita in bagno e sembra che sia stata vittima di cyberbullismo, l'ennesimo dramma nel dramma dove una ragazza decide di togliersi la vita per colpa di sciagurati coetanei che la vanno a bullizzare. Sarebbero stati creati addirittura dei post su Facebook in cui la ragazza sarebbe stata presa letteralmente di mira. La madre ha fatto sapere di non essere stata avvisata a parte della scuola dei comportamenti della figlia, anche se effettivamente parlando qualcosa della ragazza c'era che non andava. Ok? La situazione poi è degenerata e sembra proprio che la ragazza abbia deciso di compiere questo gesto in quanto vittima di grande bullismo. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il bullismo purtroppo non è soltanto presente in Italia, ma è presente in tutto il mondo, ricordatevelo sempre. E tanto continuerà ad esserci usque ad mortem mundi, cioè fine alla fine del mondo. Punto. Il bio termina qua. Megan Evans riposi in pace. Amen.